Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, ben ritrovati sul nostro canale. Parliamo di un calciatore che ieri ha fatto davvero fatica durante la partita del derby di Milano. Stiamo parlando di Fode Baio Ture, il terzino senegalese che è arrivato la scorsa estate col compito di alternarsi dal respiro a Teo Hernández. Mister Pioli che gli ha dato fiducia, l'ha fatto la schierata titolare nel derby complice l'assenza di Teo Hernández per squalifica, complice le condizioni fisiche non ottimali di Pierre Caloulo. Il giocatore senegalese ha sofferto tanto a livello tecnico, a livello tattico il duello con Darmian e il duello in generale con l'Inter, tanto da avere in qualche modo procurato anche il secondo rigore con un'ingenuità clamorosa, visto e considerato la marcatura in maniera del tutto errata dando le spalle alla porta, non controllando visivamente l'uomo e neanche il pallone. Quindi il concetto, come dico sempre, di tempo e spazio e avversario non è stato considerato in una maniera corretta dal calciatore. Molti colleghi, molti giornalisti hanno dato 4 a Fodebayo Toure perché è Milan News in qualche modo definito così la sua prestazione, inspiegabile come perda di vista Darmian in occasione del rigore, poi parato da Siprian Tatarugiano. Soffre le discese interiste su quella fascia. E' apparso veramente in grande difficoltà, è stata in qualche modo una difficoltà oggettiva perché comunque Darmian è un giocatore comunque di affidamento, però non è ai livelli di Hakimi. Se ci fosse stato Hakimi in qualche modo non oso immaginare la difficoltà che avrebbe incontrato Fodebayo Toure. Fodebayo Toure che a livello atletico è un giocatore importante, ma a livello tattico, a livello tecnico deve migliorare davvero davvero tanto. Aveva espresso forti miglioramenti, dei grandi passi in avanti contro il Bologna, tanto che in qualche modo era stato anche, era il risultato più volte pericoloso e in qualche modo anche molto attivo e proattivo sulla fascia. Però quando si è alzata la sticella, quando è aumentata la qualità degli avversari, il giocatore ha in qualche modo manifestato dei limiti tecnici e tattici molto evidenti. Tanto che nel secondo tempo, se ci fate caso, quando è andato Pier Calulu, che attenzione, ne ho già parlato in un video, perché se lo fosse perso può andare di circa meno di una settimana fa, abbiamo parlato. Calulu è un giocatore intelligente, tatticamente, tecnicamente, è nato terzino destro, ha giocato molto bene centrale la scorsa stagione, sia a destra che a sinistra, e ieri ha giocato molto bene anche da terzino sinistro. Ragazzi, è del 2000, ha 20 anni, va a compierne 21. Quindi il mister, che in qualche modo complice l'esperienza di ieri, nelle prossime gare sono convinto che farà in qualche modo altre valutazioni tecniche, altre valutazioni tattiche, in qualche modo impiegando anche con maggiore regolarità Pier Calulu. E quindi la riflessione è questa. Il Milan in qualche modo ha un limite. Quando viene a mancare Tornandez, non abbiamo un terzino sinistro, mancino, quindi come Fede Bayou Thuré, in grado di, in qualche modo, sostituirlo egregiamente. E proprio per questo motivo magari potrebbe essere che il Milan sia su un calciatore. Ve lo raccontiamo, ve ne parliamo. Il Milan è su questo giocatore italiano, cresciuto nel Genua, che si chiama Andrea Cambiasso, con un S sola. È un classe 2000, 21enne, italiano, alto in 80, pesa 74 kg. Un giocatore, un terzino sinistro. Un giocatore che questa stagione sta giocando come esterno sinistro in un centrocampo A4 o molte volte gioca come terzino A5. È un giocatore mancino, un giocatore che ha una valutazione di circa 3 milioni di euro e ha il contratto di scadenza con il Gero al 30 giugno 2023. È un terzino, un'ala di fascia che garantisce un'ottima spinta, ha una grandissima facilità di corsa e soprattutto come capacità sa anche mettere parole molto invitanti ai suoi compagni. Quest'anno con la maglia del Gero, con la maglia del Griffone, ha collezionato complessivamente circa 13 presenze, ha giocato a 931 minuti, ha realizzato un gol e ha servito due assist. La scorsa stagione il Gero lo aveva mandato in prestito all'Empoli, dove aveva ben figurato e dove aveva in qualche modo collezionato complessivamente circa 9 presenze e giocando 201 minuti con la squadra toscana. Il 30 agosto 2021 il calciatore è stato anche convocato con la maglia dell'Under 21 dell'Italia. È un calciatore che in Milano sta seguendo, diverse squadre sono su questo ragazzo italiano di 21 anni, Andrea Cambiasso, perché c'è una carenza di terzi in Italia, soprattutto Mancini. E in Milan, molto attento al mercato nazionale, europeo e internazionale, ha inserito anche questo giocatore nelle valutazioni da parte dello scout, da parte dell'area tecnica rossonera. La riflessione è questa, se il giocatore come Fodeva Juture non è pronto in questo momento per in qualche modo alternarsi a Teo Hernandez e sapendo come già nella prossima stagione sarà importante migliorarsi, confermarsi in Champions League ma migliorando il risultato perché in questo momento in Champions League parla chiara la classifica, vede il Milan all'ultimo posto. Allora occorrono giocatori anche di ricambi, e l'abbiamo visto quanto è importante in mezzo al campo, quanto è importante avere ricambi di livello anche nelle tre quarti, è importante anche avere sulla fascia sinistra un ricambio di Teo Hernandez ad alti livelli. E poi, dico molto spesso io, se un giocatore in qualche modo arriva da un paese estero, deve fare la differenza. Se no, tanto vale puntare sui giocatori del vivaio, tanto vale puntare sul mercato italiano, sui giocatori italiani, tali da costruire, da aiutare a costruire una nazionale maggiore, una prima squadra nazionale davvero di alto livello. E su questo, ribadisco, mi piacerebbe vedere Parisi, nell'Empoli al Milan, un giocatore di grande qualità, un giocatore di grande futuro, che ha un costo di ingaggio, un costo di cartellino ancora contenuto e sarebbe l'ideale, secondo me, per alternarsi a Teo Hernandez. Questa è la mia riflessione, fatemelo sapere cosa ne pensate voi, amici di rubrica rossonera, e ovviamente sui commenti, voglio in qualche modo sempre commenti positivi, commenti in qualche modo che, possiamo dire, costruiscano valore e che in qualche modo generino interazione tra noi, cuori rossoneri. Buona serata a tutti e Forza Milan!